Alla fine la riforma del reclutamento e della carriera professionale dei docenti è stata inserita in un maxidecreto che riguarda le misure legate al PNRR da avviare entro la fine di giugno, come già concordato con l'Unione Europea. Su provvedimento le forze politiche hanno già espresso molte perplessità, mentre i sindacati hanno unitariamente dichiarato di essere contrari non soltanto per il metodo ma anche per il merito. Sindacati e forze politiche rimproverano al ministro la scelta di affidare una riforma così importante ad un decreto legge che inevitabilmente non consentirà un dibattito ampio e articolato. Il ministro per parte sua rivendica il fatto che con questa riforma ci saranno percorsi certi per accedere all'insegnamento. Non solo ma ci saranno anche concorsi semplificati e soprattutto banditi a cadenza annuale. I primi risultati si dovrebbero vedere a partire dal 2024 con l'immissione in ruolo di almeno 70.000 docenti. D'ora in poi ai concorsi potranno accedere coloro che avranno svolto un percorso universitario abilitante di formazione iniziale, corrispondente ad almeno 60 crediti formativi, con una prova finale. Il percorso di formazione abilitante si potrà svolgere dopo la laurea oppure durante il percorso formativo in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento del titolo. Per coloro che già insegnano da almeno tre anni nella scuola statale è previsto l'accesso diretto al concorso e un percorso universitario per il conseguimento della abilitazione. Percorso facilitato in quanto basteranno 30 CFU. Ma la parte più discussa del provvedimento riguarda la questione della formazione in servizio sulla quale per la verità non mancano i punti interrogativi. Per il momento di certo c'è il fatto che il governo intende legare la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento ad incentivi di natura economica. Il meccanismo però non è ancora molto chiaro anche perché certamente i sindacati chiederanno che le concrete modalità applicative vengano decise per via contrattuale. Per intanto va detto che l'iniziativa del ministro Bianchi ha sortito un effetto importante. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri i sindacati hanno diramato un comunicato unitario, il primo dopo mesi di rapporti tesi e difficili fra le diverse sigle. Il comunicato peraltro è anche piuttosto duro perché rigetta l'intero impianto della proposta del governo. E c'è anche chi nel fronte sindacale sta già parlando di uno sciopero per bloccare la riforma sul nascere. Ma questa è un'altra storia perché sulle ipotesi dello sciopero non è detto che tutti e sei i sindacati siano d'accordo. Ovviamente di questo parleremo ancora prossimamente, quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnica della scuola.it. Scriveteci, mandateci i vostri commenti e noi ne daremo conto come di consueto. Grazie. Grazie. Grazie.